La città come gli stadi arriva il dust urbano all'Aquila con la modifica del regolamento di polizia municipale che renderà possibili divieti di accesso e ordini di allontanamento di chi dà fastidio o si comporta male nei luoghi ritenuti più a rischio per la sicurezza. Il terminal bus di Collemaggio, l'esterno dell'ospedale San Salvatore e il mercato di piazza d'armi in primis ma anche gli spiazzi delle scuole e i parchi o giardini pubblici. I vigili urbani potranno allontanare e sanzionare coloro che impediranno il libero accesso e la fruibilità o metteranno a repentaglio il decoro, la sicurezza e l'ordine pubblico. L'assessore alla polizia municipale, Carla Mannetti. Se vengono individuati dei soggetti in queste aree che danno fastidio, come dice la legge, alla vivibilità dei cittadini il vigile può intervenire appunto con questo provvedimento che ha un ordine di allontanamento e lo allontana dall'area. Il provvedimento poi viene inviato al questore il quale poi farà le valutazioni del caso e potrà emettere un provvedimento ulteriormente più restrittivo.